Ciao, sono Toma Guzman, credo nel Signore Gesù. Ciao, sono Leandro, gioco per la Trentino Volley e sono atleta di Cristo. Ciao, sono Miguel Alonso, sono atleta di Cristo. Ciao a tutti, sono Eddie Ratti, io credo in Gesù Cristo. Ciao, sono Nicola De Gruttagli, credo in Cristo e faccio parte degli atleti di Cristo. Io del nome è Tu, è il nome del Signore, è il nome del Signore. Ciao a tutti.